Sonic 2 è finalmente uscito al cinema nelle sale cinematografiche italiane con di nuovo protagonisti un grandissimo Jim Carrey e per noi italiani Maurizio Merluzzo che interpreta Knuckles Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica film in uscita sono davvero felice di parlare di nuovo di un film con protagonista Jim Carrey tra l'altro potrebbe anche essere il suo ultimo film perché ha annunciato un po' così tra il detto e non detto che sta pensando di andare in pensione quindi potrebbe essere stato quello che ho visto in questi giorni il suo ultimo film in una sala cinematografica quindi io potrei non rivedere più Jim Carrey sul grande schermo per ora poi non si sa mai prima di cominciare se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che corrono velocissime e di commentare qui sotto con quello che ve ne è farso di questo film e di questo video vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social tra cui Instagram e Twitch soprattutto oggi perché stasera tra poco su Twitch andrò in live parlando appunto di Sonic cercherò di parlarne non spoiler a meno che la chat non mi dia il via libera e poi faremo una tier list su tutti i film di Jim Carrey e ovviamente parleremo dell'argomento Jim Carrey che potrebbe appunto andare in pensione quindi seguitemi su Twitch dove trovate il mio link Twitch qua sotto in descrizione se aprite la descrizione trovate sempre di tutto apritela cercherò di non fare spoiler nella prima parte di questo video e poi mi concentrerò proprio sullo spoiler nella seconda parte vi avvertirò per tempo state tranquilli allora Sonic 2 devo dire che quando io sono andato a vedere Sonic 1, il primo film innanzitutto voglio metterle mani avanti io non conosco Sonic, non sono un giocatore di Sonic non ho mai giocato a Sonic, non sono un gamer, lo sapete se mi seguite però sono stato trasportato al cinema per la mia passione per Jim Carrey e in questo film già dal trailer avevo visto che era molto in forma ed era anche molto in parte, era proprio nel personaggio mi è piaciuto un sacco, sono stato soddisfatto di quello che ho visto e di conseguenza è ovvio che ero entusiasta di rivedere anche Sonic 2 però appunto io non conoscendo molto questo mondo sicuramente dirò delle cose da persona che non conosce dei riferimenti al videogioco quindi se faccio degli errori non esitate a scrivermelo qua sotto in descrizione Sonic 1 ovviamente era sulla bocca di tutti per la cattiva CGI con cui avevano fatto il riccio e che poi è stata rifatta, rimaneggiata dopo una forte, non protesta però dopo un forte feedback negativo da parte dei fan e devo dire che questa scelta in questo caso di rispettare non dico le proteste dei fan ma la reazione a caldo dei fan ha ripagato perché con una CGI migliorata sul personaggio il film è stato uno dei film tratti da un videogioco di maggior successo se non sbaglio ho anche battuto Detective Pikachu che era il precedente film di maggior successo tratto da un videogioco quindi da questo punto di vista devo dire che Sonic 2 aveva la strada spianata un altro vantaggio di Sonic 1 è stato che io non mi aspettavo nulla però sono stato felice di aver visto a una prima visione quantomeno un film godibilissimo con una trama credibile nel senso che la sospensione dell'incredulità arriva davvero tardi è tutto molto terra terra finché appunto la storia non va avanti nel climax finale anche lo stesso personaggio di Jim Carrey che è sopra le righe perché è un personaggio assurdo pur essendo un essere umano parte con le migliori intenzioni per quanto riguarda i piedi per terra cioè è solo un mitomane, un mitomane intelligentissimo dotato di tantissima tecnologia e da lì c'è un escalation e questo rende la visione godibile anche a un pubblico di adulti una volta che il mio mindset era fissato su questo tipo di trama pensavo di vedere quantomeno lo stesso clima anche nel secondo film invece il secondo film ammetto che è un pochino più infantile la trama parte subito una trama che parte così in fretta io l'ho vista per esempio in Morbius anche se davvero Morbius non è nemmeno da paragonare cioè è proprio una merda però queste cose che succedono tutte troppo in fretta considerando che l'ultimo film che ho visto così era Morbius mi ha un attimino fatto alzare le mie difese immunitarie perché sta succedendo troppo in fretta? ho tanta paura che giochino le carte migliori nei primi minuti per poi lasciarci inconcludenti per tutto il film invece no, devo dire che loro giocano molte delle carte più potenti nei primi minuti del film perché poi vogliono sviluppare una trama abbastanza interessante infatti è proprio nel secondo tempo nella seconda parte di questo film che il film prende interesse anche per una persona adulta io sono stato appunto un po' messo come si dice sono stato un po' destabilizzato all'inizio per questo motivo nella prima parte del film perché secondo me sarebbe avrebbero meritato un'introduzione migliore a alcuni personaggi all'inizio però devo dire che poi si sviluppano bene comunque nella seconda parte proprio perché nella prima parte di questo film appunto buttano tantissima carne al fuoco con un escamotage alcuni personaggi del primo film li mettono in secondo piano e anche lì è stata la mia paura iniziale è stata che fossero in secondo piano per tutto il film proprio per dare spazio alla parte diciamo fantasy alla parte fantascientifica che però priva della parte terra-terra data appunto dai personaggi del primo film poteva sembrare troppo sopra le righe per i miei gusti invece devo dire che poi a un certo punto prima di quanto mi aspettassi le due trame finalmente si intrecciano per andare poi al climax finale quindi anche da questo punto di vista chapeau agli sceneggiatori che comunque sono riusciti a portarla a casa molto molto bene imparate sceneggiatori di Morbius il personaggio di Knuckles è presente non è un segreto lo si vede già dal trailer nella lingua originale è stato doppiato da Idris Elba che noi conosciamo di recente per aver interpretato Bloodsport in The Suicide Squad o per aver interpretato Hemdall nella saga di Thor e in Infinity War lui doppia Knuckles nella lingua originale nella lingua italiana il doppiatore è il doppiatore storico di Knuckles che lo ha doppiato anche nei videogiochi ed è The Merluz Maurizio Merluzzo devo dire che ha fatto un lavoro straordinario ma al di là del suo puro lavoro di doppiaggio ha fatto un sacco ridere che questo personaggio gli danno sempre ruoli al di là che questo era già un ruolo che aveva nei videogiochi ma non è scontato come lui stesso spiega in un video mi piace che gli diano sempre ruoli di personaggi come Shazam molto grossi molto potenti in questo caso Knuckles anche lui è forzuto è forte Knuckles significa nocche in lingua italiana ma allo stesso tempo questo Knuckles è un tenerone cioè come Shazam era fondamentalmente un bambino un bambinone nel corpo scusate un bambino nel corpo di un adulto ma che fondamentalmente il risultato era un bambinone muscolosissimo qui abbiamo Knuckles che mi ha ricordato tantissimo un mix tra l'orgoglio di Vegeta quindi questo orgoglio di questa sua tribù degli Echidna che è stata sterminata e lui è l'unico Echidna sopravvissuto ed è il più forte deve portare onore alla sua tribù un mix tra questo e l'ingenuità soprattutto quando abbassa la guardia a un certo punto e l'ingenuità in un certo senso anche l'ignoranza verso le usanze terrestri che potrebbe avere Goku quindi questo mix di queste due caratteristiche di queste due personalità nel personaggio di Knuckles hanno reso Knuckles il mio personaggio preferito che ha superato persino il protagonista Sonic che comunque è molto sopra le righe è simpaticissimo però devo dire la scena gli viene rubata parecchio da Knuckles anche più che da Tails che sì c'è anche Tails perché lo si è visto nella scena post-credit del primo film quindi si sapeva ci fosse anche Tails mentre per quanto riguarda Jim Carrey la sua interpretazione in questo film l'ho trovata era meno allora Jim Carrey è sempre grandioso però in questo film è più Jim Carrey ed è meno Robotnik non so se mi spiego bene mentre nel primo film Jim Carrey era molto più cattivo era molto più egomaniaco qua sembra che il suo ego magari lui ha cercato di portare l'ego del personaggio verso una follia anche in base a quello che ha passato nel finale del primo film che è stato abbandonato su questo pianeta diciamo inabitato quindi è più folle rispetto al primo film però io mi aspettavo che fosse sì più folle ma comunque più più egomaniaco invece l'ho visto un folle più alla Jim Carrey un folle più accomodante in alcune scene lui cede all'orgoglio cede alla alla cattiveria per una gag e questo è Jim Carrey non è Robotnik cioè non è Robotnik del primo film è un personaggio un pochino diverso diverso ma non come come pensavo diventasse dopo l'esperienza del primo film non so se è una scelta non so se è dovuto a quello che ha detto cioè che lui sta andando in pensione quindi magari in questo film si è impegnato meno tenete presente anche che Jim Carrey è sempre stato molto contrario a fare dei sequel quindi non so se in qualche modo qui lo abbiano incastrato e quindi non vorrei che la sua recitazione sia di pesa anche da questi fattori sono riuscito a non fare spoiler finora quindi se non avete visto il film stoppate il video e andate di corsa al cinema a vedere Sonic di corsa mentre se avete visto il film potete continuare la visione ah se non avete visto il film potete comunque andare su Twitch e cercarmi e seguirmi dato che tra poco parte la live per chi invece vuole sentirvi spoiler 3 2 1 spoiler quello che intendevo sul fatto che la sospensione dell'incredulità è più esasperata in questo film e che molte cose succedono perché sì e proprio per questo il film a me è sembrato un po' più infantile rispetto al primo dove c'è comunque una gradualità di eventi è dato dal fatto che vabbè Tails arriva senza motivi cioè nel senso non danno una spiegazione sul fatto che Tails arriva ma lo avevamo già visto nel finale del primo film quindi ci può anche stare però diciamo la motivazione sembra un po' fiacca cioè arriva proprio adesso che c'è il secondo film ma allo stesso modo anche Robotnik e Knuckles arrivano così di punto in bianco io mi aspettavo quantomeno speravo di vedere almeno qualche scena se non subito se non in ordine cronologico almeno come flashback in cui mostrassero come il personaggio di Jim Carrey fosse riuscito a scappare dal luogo dove era stato confinato alla fine del film invece semplicemente ci è riuscito perché sì ci è riuscito perché è un genio va bene però ecco sarebbe stato figo vedere il processo un piccolo una piccola sequenza di come lui è riuscito ad arrivare sulla terra invece a un certo punto semplicemente spunta aiutato da Knuckles ci spiegano che Knuckles e Robotnik hanno fatto un'alleanza temporanea per poter arrivare sulla terra Knuckles è interessato a Sonic perché segue questa leggenda del diamante mentre Robotnik inizialmente vuole solo vendicarsi di Sonic e dimostrare che lui è in grado di tornare sulla terra anche senza gli anelli però poi chiaramente quando sente la leggenda del diamante è attirato anche da questo potere perché vi ricordo che comunque Robotnik nel primo film era sempre ossessionato dalla potenza dal fatto che un aculeo di Sonic poteva dare energia a tutti i suoi macchinari quindi lui ha sempre agognato il potere ecco in questo caso il personaggio di Jim Carrey è un po' meno centrato cioè se uno ha visto il primo film lo sa perché sì uno si può aspettare che questo personaggio cerchi vendetta ok in realtà cerca entrambe le cose sia la vendetta che il potere ma non è molto sottolineata questa cosa tranne nel finale quando appunto prende il diamante e diventa questa sorta di divinità che riesce a costruire tutto con la mente io come ho detto all'inizio non sono un fan del videogioco quindi non conosco nulla però io avevo percepito dal primo film che gli anelli fossero anche interdimensionali e che Sonic fosse arrivato sulla Terra da un'altra dimensione però questo potrebbe essere un errore mio di comprensione è effettivamente un anello che ti può spostare anche all'interno dello stesso pianeta da un luogo all'altro come abbiamo visto nel primo film e abbiamo visto nell'inizio del secondo film facilmente si può pensare che sia semplicemente un anello che ti sposta di luogo in luogo ma non che non attraversa le dimensioni quindi vado a presupporre che il luogo dove è nato Sonic era semplicemente in un pianeta molto lontano e di conseguenza Sonic è un alieno e di conseguenza lo è anche Knuckles anche perché lo chiama in questo modo Robotnik e questo potrebbe spiegare come Robotnik sia riuscito senza gli anelli ad arrivare sul pianeta Terra però ripeto questa potrebbe essere una mia mancanza non conoscendo la storyline del videogioco quindi ci credo già di più che Robotnik sia arrivato di nuovo sulla Terra semplicemente con l'aiuto di Knuckles e della tecnologia che Robotnik ha creato perché comunque non dovendo attraversare nessun portale dimensionale nessun anello semplicemente è arrivato con la santa pazienza e con il tempo e a questo io ci posso credere anche perché lo stesso personaggio di Tails dice di venire da un altro pianeta lontano e di essere arrivato praticamente non ricordo come era arrivato con il primo film però è arrivato grazie alla sua tecnologia parlando sempre di anelli ecco si è dato un po' meno importanza al valore di questi di questi anelli nel secondo film nel primo film mi sembrava che fossero contati questi anelli che fossero preziosi proprio perché non erano infiniti invece qua non danno proprio assolutamente peso al fatto che gli anelli possano finire possano esaurirsi a un certo punto Sonic li perde nella nella valanga però più tardi più avanti nel film ha comunque degli anelli quindi non viene proprio non ci si focalizza molto su questa cosa degli anelli potevano puntare un attimino di più quantomeno per continuity con il primo film però non è un grosso errore non è un errore fastidioso è una cosa che magari un bambino manco nota però l'ho notata resta lì ci mancherebbe parlando invece di quello che ho detto all'inizio su alcuni personaggi che vengono messi da parte allora dal momento che vogliono hanno buttato proprio nel primo nel primo quarto d'ora nei primi venti minuti hanno buttato dentro Robotnik Tails e Nakos tutti e tutti assieme insieme a Sonic va da sé che dovevano mettere da parte qualche personaggio perché se no la trama era troppo troppo fitta e così si sono inventati questa seconda trama in cui i personaggi umani il re delle ciambelle adesso mi sfugge Tom ecco se non sbaglio Tom l'amico paterno di Sonic la sua fidanzata vanno al matrimonio della cognata di Tom la tanto odiata cognata del primo film e vanno alle Hawaii e così se li levano dalle palle per il primo tempo questo è un escamotage un po' furbino degli sceneggiatori quando non sanno come gestire alcuni personaggi in merito di altri Dragon Ball insegna ciao Ten Sing dove sei stato durante la saga di Majin Bu però ecco io mi aspettavo io speravo che se gli sceneggiatori fossero un tantinello bravi a un certo punto questi personaggi li avrebbero legati alla trama principale e il mio timore era che invece sarebbero stati alle Hawaii fino alla fine e sarebbero tornati a cose fatte fortunatamente gli sceneggiatori sono stati molto molto bravi al punto che le due trame si intrecciano prima di quanto io avessi previsto questa cosa mi è piaciuta davvero tanto sono contentissimo che i personaggi del primo film si intreccino ai nuovi arrivati perché altrimenti sarebbe stata una sceneggiatura davvero pessima e sono felice che non sia stato così come ho detto all'inizio questo Jim Carrey che interpreta Jim Carrey l'ho notato in molte scene anche alla fine quando viene sconfitto cade all'indietro e dice oh ma dai non siamo amici è una cosa che non avrei mai visto pronunciare da Robotnik cioè il Robotnik che ci ha mostrato nel primo film non mi sembrava un tipo del genere mi sembrava un tipo che come sue ultime parole avesse detto qualcos'altro tipo comunque non mi hai sconfitto qualcosa del genere invece lì ho visto proprio Jim Carrey che interpreta se stesso non è assolutamente un male io adoro Jim Carrey però ecco mi sembrava un personaggio un tantino diverso da quello che ho visto nel primo film ma per carità ci sta tutto fondamentalmente finale con scena post credit fantastica i bambini che erano in sala che conoscono tutta la storia di Sonic sono stati molto esaltati da questa cosa dal personaggio di Shadow sono molto felice che una scena post credit come si deve c'è ancora chi la sa fare molto bene quindi sono anche felice perché questo significa che vedremo un Sonic 3 e ci sarà un altro riccio che si aggiunge alla famiglia sono felice probabilmente utilizzeranno lo stesso escamotage in quell'inizio magari non so un nemico sarà sicuramente al servizio del governo perché abbiamo visto che è nelle mani del governo e poi chiaramente si uniranno tutti anche perché si capisce che c'è un secondo nemico oltre a Robotnik che è il governo che ha teso una trappola alla famiglia di Tom per catturare Sonic questa cosa sicuramente la esploreranno nel terzo film mi viene anche da pensare che nel terzo film Jim Carrey con la cosa che è in pensione non ci sarà più infatti potevano benissimo mostrare invece che quando c'era questo poliziotto che si è tolto il passamontagna poteva essere Jim Carrey invece il fatto che non fosse Jim Carrey ma il suo assistente mi lascia presagire che Jim Carrey nel terzo non ci sia che ci sarà Shadow che ci sarà l'esercito come cattivo magari l'assistente potrebbe prendere il posto di Eggman come Luke ma non sarà Jim Carrey conoscendo Jim Carrey potrebbe succedere spero di no ma temo di sì fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video e ci vediamo tra pochissimo su Twitch e vi ringrazio